Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti al nostro telegiornale. Il telegiornale che si apre questa sera con la notizia della cattura e dell'arresto dello spacciatore che avrebbe venduto l'eroina mortale a una 32enne di Lucrezia, di Cartoceto. Nel prossimo servizio tra l'altro si fa riferimento anche ai dati che riguardano le persone che sono già decedute per droga. E sono già quattro soltanto a Fano. Vediamo. I Zarek Bal, un 36enne pakistano residente a Senigallia, è stato arrestato dai carabinieri di Fano, sospettato di aver fornito la dose letale costata la vita ad una donna di 32 anni il 20 agosto scorso a Fano. I familiari della giovane avevano dato l'assenso all'espianto degli organi dopo la comunicazione dei medici che per la 32enne non ci sarebbe stato più nulla da fare. Con la collaborazione del compagno della vittima e grazie ai tabulati telefonici della coppia, i militari sono risaliti in meno di una settimana all'identità dell'uomo incensurato e di professione pusher. Ora, dopo diversi pedinamenti, è indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli investigatori, infatti, hanno trovato otto dosi di eroina già pronte, nascoste tra la ghiaia, sotto un albero della sua abitazione. Sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, circa 180 euro considerati proventi dell'attività illecita. Dopo la convalida dell'arresto, il pakistano rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del processo. Abbiamo iniziato i servizi di osservazione su Senigallia, luoghi in cui potremmo accertare che provenivano sia dove lui riceveva le telefonate e da dove provenivano anche alcune di queste. Da lì scoprire i luoghi dove avvenivano gli appuntamenti, dove avveniva lo scambio della sostanza stupefacente, la vendita, che potevano essere quello della stazione ferroviaria, zona centrale, del parcheggio dell'Una Park, comunque tutte le zone centrali e vicinissime a quelle che successivamente, una volta individuato il soggetto, è stato anche importante quello di trovare anche l'abitazione di questa persona. Il dato preoccupante, come riferito invece dal comandante della compagnia di Fano, Alfonso Falcucci, sono i casi di decesso per assunzione o consumo di eroina acquistata sul mercato ad un prezzo in drastico calo che va dai 16 ai 20 euro al grammo. Per quanto riguarda la città di Fano, c'è una controtendenza nazionale con un aumento del numero delle morti per overdose. Dal 2014, infatti, sono decedute quattro persone, di cui tre donne e un uomo. Si sta indagando anche per verificare se c'è un collegamento tra il pusher finito in manette e il papà, 33 anni di Marotta, deceduto il mese scorso, sempre per overdose, in un'abitazione del centro storico di Fano. I militari hanno registrato inoltre un ritorno all'eroina non iniettata ma fumata e spesso la morte è una conseguenza della sostanza tagliata male. Soprattutto con quest'ultima formula, quella dell'assunzione fumando l'eroina, ha avvicinato moltissimi giovani. Quindi questo lo rende ancora più preoccupante perché si ha la convinzione che questo non crei dipendenza. Non è assolutamente vero. Le truffe, le truffe, una vera piaga di questa estate. Truffe senza limiti. Altri episodi, tra l'altro, sono stati segnalati oggi a Fossumbrone e a Cagli. Vittime, in particolare gli anziani. Ma per incastrare i truffatori, i carabinieri suggeriscono di adottare una tecnica o comunque di fare attenzione a questo. Sentite. Le vittime prescelte sono spesso gli anziani. Più volte, infatti, vi abbiamo raccontato di donne avvenenti che hanno cercato di raggirare gli uomini. Così come ha fatto la 44enne pluri pregiudicata denominata sexy ladra che ha colpito in varie zone della provincia di Pesore Urbino. E la dinamica più o meno è sempre la stessa. Si avvicinano agli uomini prescelti, spesso di età avanzata. Assumono qualche atteggiamento provocatorio e promettono prestazioni sessuali. Ma intanto, con destrezza, si impossessano di oggetti d'oro. Ultimo episodio a Cagli, dove, anche in questo caso, un'altra donna è riuscita a sfilare la collanina ad un anziano. Ma le truffe possono essere di vario genere, come è accaduto ieri alla signora di 93 anni, contattata telefonicamente da finti avvocati che chiedevano soldi o gioielli per un incidente mai accaduto, in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio dell'anziana. Noi chiediamo la collaborazione del cittadino perché a fronte di richieste anomale, ovvero viene millantato un incidente o un problema da parte di familiari e a seguito di questo fatto c'è sempre una richiesta di denaro. A fronte di questa richiesta noi chiediamo l'immediata collaborazione del cittadino nella misura in cui deve assecondare apparentemente la richiesta, avvisarci immediatamente e metterci nelle condizioni di esserci quando dovrebbe avvenire questa consegna di denaro. Questo ci consentirebbe ovviamente di arrestare in flagranza di reato i truffatori. Il problema però non sono solo le truffe, ma anche i furti, sebbene in diminuzione rispetto allo scorso anno. A Fossombrone nei giorni scorsi è stata individuata dai militari una zingara originaria di Zagarolo, un comune di Roma, facente parte di una banda composta da altre tre donne che agiscono in gruppo per mettere a segno i furti. D'altra parte per cercare di contrastare questi reati predatori i carabinieri della compagnia di Fano garantiscono sul territorio tre pattuglie al giorno per singolo turno con l'obiettivo di intervenire in tempi rapidi. Se ci sono delle persone sospette, delle persone non abitualmente osservate sul territorio, è importante comunicare e dare indicazioni precise sulla dinamica, su quello che si è osservato, dare una descrizione esatta della persona. Magari sarebbe anche utile rilevare il numero di targa della macchina. Ovviamente in questo la tempestività gioca un ruolo fondamentale, quindi a fronte dell'osservazione di un fatto anomalo, l'immediata comunicazione. Un fanese di 30 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Carbonari nella zona nord di Milano. Sul cadavere dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza e quindi l'ipotesi più probabile al momento è che il giovane sia deceduto per un malore. Il PM di turno, Francesca Celle, ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte. Da quanto si è saputo, nelle scorse settimane i familiari avevano denunciato la scomparsa. Adesso apriamo la pagina della politica. La politica fanese e le polemiche sulla scelta del portavoce del sindaco oggi hanno raggiunto il loro culmine. Gettare benzina sul fuoco di queste polemiche ci ha pensato lo stesso Davide Rossi che ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua. Per rispetto nei suoi confronti e verso i cittadini si aspettava una vera presa di posizione dal sindaco seri Davide Rossi chiamato in causa come possibile il nuovo capo di gabinetto del primo cittadino. Per questo motivo fino ad oggi ha preferito rimanere in silenzio durante il puttiferio politico come da lui definito. Poi oggi ha deciso di parlare e spiegare come sono andate realmente le cose. Ci siamo visti a pranzo e in questo pranzo lui mi ha raccontato delle difficoltà che sta incontrando nella situazione di governo difficoltà che sono penso sotto gli occhi di tutti e quindi pensava che potesse essere utile un rafforzamento della sua segreteria e mi ha manifestato il desiderio di portarmi con sé nella sua segreteria perché pensava che per le mie qualità professionali io potessi essere utile al suo lavoro di sindaco. Io la mia disponibilità l'avevo data perché pensavo che questo potesse effettivamente essere utile alla città dove vivo il lavoro e poi si è scatenato il puttiferio politico che tutti hanno visto in questi giorni. E quindi adesso che cosa ha deciso di fare? Io credevo che come nelle altre città il sindaco avesse anche a Fanno la prerogativa di scegliersi le persone di sua fiducia all'interno della segreteria ma evidentemente a Fanno non è così quindi siccome a me sta a cuore la mia città io mi ritiro la disponibilità che gli avevo dato allora e diciamo in questo modo lui sarà più libero di nominare una persona che è diciamo così più funzionale agli equilibri politici della coalizione. Ma resterà completamente fuori dalla scena politica o in qualche modo si rimetterà in campo? Ma io sono in questo momento privato di cittadino da oltre un anno, non è che ci sono persone per tutte le stagioni. Prendo atto di una cosa da cittadino, che questa città avrebbe bisogno di un sindaco con coraggio un sindaco che fosse libero dai condizionamenti partitocratici quindi avrebbe le condizioni per essere un sindaco coraggioso. Vedremo se da qui in avanti le avrà, altrimenti è chiaro che a Fanno dovranno esserci altre novità politiche. Parole pesanti nei confronti del sindaco. Lo ricorderete senz'altro a svelare le intenzioni di Seri di assumere appunto Davide Rossi nella sua segreteria furono i due consiglieri di centrodestra Santorelli e Garbatini di Progetto Fanno lo fecero con un comunicato stampa e proprio Progetto Fanno oggi dopo le dichiarazioni di Davide Rossi chiede le dimissioni di Massimo Seri. Tornano a chiedere le dimissioni del sindaco Seri Alberto Santorelli e Aramis Garbatini consiglieri comunali di opposizione che sabato scorso avevano fatto scoppiare la polemica sull'ipotesi di nominare Davide Rossi come nuovo capo di gabinetto. A Massimo Seri, dicono, non è rimasto che trarre le conclusioni cioè prendere atto della situazione e venire in consiglio comunale con le dimissioni in mano. In virtù dell'incontro che hanno avuto ieri, tre ore di incontro dal quale l'unica cosa che hanno partorito è stata quella di rinviare un'altra volta la decisione di sostituire il Presidente del Consiglio Comunale che devono sostituire da quattro mesi, la decisione di fare un'infornata di incarichi di cui non ce n'è bisogno ma pare questa essere la direzione e invece oggi ci dicono che per altre settimane si incontreranno, discuteranno questo per una decisione del genere. Figuriamoci per tutte le decisioni più importanti che la città già doveva prendere o dovrà prendere i prossimi mesi. Lo stesso Davide Rossi evidenzia che la città ha bisogno di un sindaco coraggioso che prenda le decisioni. Noi siamo contenti che queste cose iniziano a venire anche da chi si era candidato a sostegno di Massimo Seri perché il problema sta tutto qui. Non sta più in una maggioranza che maggioranza non è mai stata, nell'arroganza dei partiti ma sta in un sindaco che non è in grado di tenere in piedi di questa maggioranza e di dire alla città quali decisioni vuole prendere. Pertanto faccia un atto di coraggio questa volta, venga in Consiglio Comunale, apro ufficialmente la crisi e la sua maggioranza con le dimissioni in mano e si apre una nuova stagione politica nella città di Fano. Secondo Sinistra Unita invece queste richieste da parte di Santorelli e Garbattini sono demenziali e utili al massimo a strappare un trafiletto di giornale. pensano inoltre che a parlare sia proprio chi in pochi anni abbia fatto precipitare il centrodestra fanese dal 63% al 16% dei consensi e con queste motivazioni invitano ad essere più cauti nel richiedere le dimissioni, soprattutto, dicono, quando non si ha la credibilità per farlo. Della situazione politica attuale fanese si parlerà tra poco, subito dopo questo nostro telegiornale, con un ospite molto atteso questa sera e che tra l'altro la cui partecipazione ha fatto anche discutere negli ambienti della politica. Stiamo parlando dell'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi, che tra poco appunto sarà qui in diretta con Simona Zunghetti per parlare di quello che sta avvenendo nella maggioranza, non solo nella maggioranza, ma anche nel mondo appunto più in generale politico fanese. Adesso invece parliamo del 71esimo anniversario della liberazione di Fano perché oggi si sono svolte le celebrazioni per questa ricorrenza, l'anniversario della liberazione di Fano dal nazifascismo, le iniziative promosse dall'AMPI di Fano, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in collaborazione con l'assessorato alla memoria. Qui vedete alcune fotografie scattate nel corso del pomeriggio. Stasera si parlerà di guerra mondiale anche alla chiesa del suffragio a Fano dove lo storico Gastone Mazzanti cercherà di far luce sulla devastazione subita dalla città di Fano. Fano infatti ha un triste primato in Italia, cioè quello di avere il maggior numero di campanili distrutti durante la guerra. Sarà possibile inoltre vedere una mostra di foto storiche a cura di Stefano Bramucci e ritirare gratuitamente una copia del libro una volta a Fano c'erano i campanili. Ovviamente io ve l'ho letto in italiano, ma il titolo è in dialetto fanese. Nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe al Porto, giovedì e venerdì, si terranno le celebrazioni in occasione di Sant'Agostino e Santa Monica. Quest'anno tra l'altro i frati Agostiniani del Porto festeggiano i loro primi cento anni di presenza in città. Venerdì presiderà la messa solenne delle 18.30, il nuovo esco di Macerata, Monsignor Nazarino Marconi, al termine della quale seguirà un momento di festa sul Sagrato della Chiesa. Conto alla rovescia per la seconda edizione del Paglio delle Contrade che, ah no, mi dicono dalla regia che lo manderemo domani, quindi non c'è il servizio, Paglio delle Contrade comunque che sta in addirittura d'arrivo, quindi domani vi mostreremo tutti i preparativi di questo evento che si svolgerà il 29 e il 30 alla pinetta di Ponte Betauro a Fano. Mentre tra poco, per chi ci segue in diretta, a Lucrezia di Cartoceto in piazza Giovanni Paolo II, si terrà la seconda serata di Music Square. Dopo il successo di ieri sera, oggi ci sarà in programma un concerto tributo dedicato a Lucio Dalla con l'esibizione del suo storico chitarrista Ricchi Portera e la sua band. Il telegiornale è un po' più breve perché, come dicevo appunto poco fa, tra poco in diretta ci sarà l'ex sindaco di Fano, consigliere comunale oggi Stefano Guzzi, quindi a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per aver seguito Occhio alla Notizia. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS